Quello che vogliamo dirvi in relazione a questo finale di calciomercato, in relazione a questo piccolo modesto canale YouTube è che non era semplice. Non era semplice per noi fare il mercato, perché voi ci attribuite una responsabilità oggettiva che noi non abbiamo, perché pensate che tutto quello che arriva da noi sia qualcosa che trappela dal Milan. Ma non è così. Noi, o io, ma io preferisco dire noi perché non faccio il fenomeno, e usare l'io significa fare il fenomeno, così a tutti voi che me lo chiedete vi ho risposto tutto in una volta sola. Noi ci mettiamo in gioco con le nostre sensazioni, anche noi, perché se una società come il Milan prende sei giocatori di cui un minuto prima che la trattativa si trovava sul punto di essere chiusa, nessuno sapeva nulla, vuol dire che come polisi aziendale, giustamente e professionalmente, ha la riservatezza, soprattutto nei confronti dipendenti e collaboratori. Quindi da questo punto di vista noi ci siamo messi in gioco, ed è andata come è andata, poi voi potete criticare, attaccare, rilevare, eccepire, mancherebbe altro il sale del calcio e del sale dei mezzi di comunicazione, però ci tenevamo semplicemente e velocemente a riepilogare. A metà luglio vi dicevamo che lo scambio Suso-Schick non sapeva da fare, perché Suso era un valore, poi può piacere tatticamente, tecnicamente o meno, ma Suso è un valore di mercato, mentre Schick veniva da due anni deludenti, viene da due anni deludenti. Che non si dovesse fare lo scambio Suso-Schick con l'accessione a titolo definitivo di Schick, dando un valore a Schick che la Roma non è riuscita a dare, né sul piano tecnico né sul piano economico, dopo aver investito molto negli ultimi due anni, è confermato dal fatto che poi Schick è rimasto alla Roma fino all'ultimo giorno di mercato, quando è stato dato in prestito con diritto di riscatto, che è un po' il cimitero degli elefanti del calciomercato, all'Ipsia. Quindi, non l'Ipsia, il cimitero degli elefanti, il regime del prestito con diritto di riscatto. Giocatori che vanno via, ma che sono dei boomerang che poi la stagione successiva ritornano. E quindi su quello riteniamo di aver detto una cosa che vi ha messo sull'avviso. Su Andre Silva abbiamo detto subito che non era un problema medico, che non era un problema sanitario, ma economico. Lo ha dichiarato poi il direttore sportivo del Monaco Petrov e lo ha confermato anche il fatto che Andre Silva ha giocato come atleta idoneo la prima giornata di campionato a San Siro, la seconda di campionato, la prima in casa contro il Brescia e che poi ha superato, nonostante qualche inspiegabile indiscrezione, le visite mediche con l'Eintracht di Francoforte. Vi abbiamo detto e ribadito che non era Jorgen Mendes a fare il mercato del Milan, tant'è che il giro cessione Cutrone e Andre Silva per arrivo di Correa non c'è stata. Non c'è stata la cessione di Andre Silva al Monaco, non c'è stata la partecipazione di Jorgen Mendes alla trattativa con l'Atletico Madrid per Correa. Sono arrivati sei giocatori al Milan, sei procuratori diversi, nessuno è Mendes. Il procuratore di Krunic è Sergio Berti, il procuratore di Teo Hernández è Kion, il procuratore di Ben Nasser è Musa Sissoko, il procuratore di Raffaele Aho è Nelson Almeida e poi c'è una presenza particolarissima della sua famiglia al suo fianco. I procuratori di Duarte sono Serginio e Luci, il giro di Krunic è evidentemente croato, chiedo scusa, il giro di Rebici, di Ante Rebici è assolutamente croato e Ante Rebici arriva al Milan in segno di un feeling e di un rispetto nei confronti di Zvone Bobano. Quindi tutta questa architettura della spec tremenda, non c'è stata, ma non c'è stata nei fatti, senza bisogno poi di fare pronostici sbagliati e di costruire tesi azzardate. Non c'è stato e basta. Per quanto riguarda invece le altre situazioni di mercato, nella seconda metà di luglio vi dicevamo che Correa era molto difficile che sarebbe arrivato il Milan, qualcuno di voi su Youtube, su Twitter ci ha preso in giro, ah non sa le cose, ah ma è una macchietta, ah ma cosa parla? Certo che era molto difficile, tanto difficile che non è arrivato. Quindi prima di dare i giudizi anche sui social bisogna vedere come vanno le cose, bisogna vedere come vanno le cose perché è stata un'estate strana in cui tante cose date per fatte poi non sono successe. Quindi bisogna anche rivedere un po' il giro delle fonti. E in chiusura gli ultimi giorni di mercato, prima di Udinese Milan e prima di Milan Brescia, vi abbiamo detto che Correa non sarebbe arrivato e che il mercato del Milan avrebbe anche potuto essere questo a meno che ci fossero state delle occasioni su cui il Milan era comunque pronto. Qualcuno di voi ha capito che noi avevamo detto che il mercato era chiuso, capito male, ma anche fosse stato così va bene lo stesso perché personalmente, dopo tanta esperienza e tanta gavetta, perché la gavetta si fa ogni giorno, credeteci, è molto meglio dare una visione un po' più occupa prima e poi essere felici poi per l'arrivo ad esempio di Ante Rebic e la risoluzione della questione Andresilva che ormai non era più proponibile purtroppo a San Siro. E quindi per chi ha capito male è andata bene lo stesso. Per chi ha capito bene avevamo detto quello che esattamente si è poi verificato e cioè che in caso di occasioni dell'ultima ora il Milan sarebbe stato pronto e Ante Rebic è un grande acquisto come ha giustamente detto Zvone Boban nella sua intervista a Sky.